Imparare a leggere e scrivere rappresenta un problema molto grande per la comunità di sordi. Il 90% dei bambini sordi nascono da genitori o denti che non conoscono il linguaggio dei segni. E se non ci sono input per questi bambini diventa molto difficile acquisire una capacità di lettura. Lei si chiama Star. Ed è il motivo per il quale tante famiglie con figli sordi sono volate in Lapponia ad incontrare il vero Babbo Natale. Star è l'avatar protagonista di StorySign. Una nuova applicazione di Huawei che sfrutta l'intelligenza artificiale per aiutare i bambini sordi a leggere. C'è abbastanza sensibilizzazione sui bambini non udenti e la loro mancata conoscenza della lettura e della scrittura. Io non credo. Ma se per leggere è così importante. Sfruttando la fotocamera integrata negli smartphone di ultima generazione, StorySign è in grado di riconoscere il testo di alcuni libri memorizzati nel suo database che grazie all'intelligenza artificiale verranno tradotti nel linguaggio di segni. Permettendo ai bambini sordi di leggere le proprie storie preferite in totale autonomia. Tutti ci sono 32 milioni di bambini sordi in il mondo. E per molti di questi bambini hanno una reale difficoltà di leggere. Perché non possono leggere e non possono leggere in modo che un bambini sordi può. E' per questo motivo abbiamo deciso di creare e portare il mondo storie. It's very important for us to make sure that as many people as possible were able to experience the StorySign app. Quindi è disponibile per altri dispositivi Android e può essere downloadato dal Google Play Store. È disponibile in 10 versioni separate. Da different nuove di più, ci sono fondamentali. Ci sono già un stambio per lasciare una conversazione. Ci sono State, per il momento, a dare una soluzione che abbiamo, di chiusurare le persone a donare in movimenti le loro smartphone dei cittadini locali. In order a pomerare tutti i miei libri, per dare una adulta di жизни la samei esperienza che una bezzetta come un figlio che vorrebbe ottenere nel vettere una canali in una città di bambina e per avere la選anza che per la chiusura. non è un'easy task per farlo ma dobbiamo cominciare in un modo grazie a tutti